L'assessorato alla sostenibilità di Maria Rosa Conti ha presentato oggi l'adesione del Comune di Pesero al percorso Rifiuti Zero alla presenza dei vertici regionali del progetto Marcha Rifiuti Zero, Daniele Antonozzi e Giuliano Golini. Sono già 330 i comuni italiani, 20 dei quali marchigiani, che hanno aderito ad una strategia di rivoluzione ecologica e salto di qualità nella raccolta differenziata, così come nel percorso a monte del rifiuto. Il percorso è un percorso che è a monte del lavoro che viene fatto dalle nostre multi-utility che poi operano come Marche Multiservizi anche in un contesto più ampio e generale, che è il contesto dell'ambito territoriale. Invece questo tipo di percorso è molto importante per un ente locale perché agisce nel momento di prevenzione della produzione dei rifiuti. È un protocollo d'intesa che hanno siglato tanti comuni, anche marchigiani, ma anche a livello italiano, che Marche Rifiuti Zero come Rete Rifiuti Zero, perché è una rete internazionale ed europea, Zero West, propone per una condivisione anche culturale di corresponsabilità nei confronti della comunità e della cittadinanza sulla produzione dei rifiuti. Questo tipo di percorso deve aiutarci e deve aiutare tutta la comunità e quindi le attività produttive con cui noi vogliamo interloquire, grazie al sostegno e all'ausilio del percorso di Marche Rifiuti Zero, a fare scelte impiantistiche differenti e che queste scelte siano effettivamente residuali e soprattutto che per produzioni così inferiori come sono quelle della nostra provincia e in particolare anche del nostro comune si possa addirittura pensare di non dover per forza ricorrere a discariche o inceneritori perché le discariche entro il 2030, secondo le indicazioni europee, dovrebbero essere chiusi appunto. Il tema dello smaltimento rifiuti contempla anche la netta opposizione al progetto della discarica a riceci come ricordato dalla deputata Luana Zanella che sull'argomento si è spesa in prima persona in Parlamento. Abbiamo presentato due interrogazioni a questo proposito perché intanto si tratta di rovinare e di violentare uno dei luoghi più significativi dal punto di vista ambientale, paesaggistico, storico della regione stessa. E poi perché il progetto andrebbe ad alterare e rovinare un'economia legata soprattutto all'agricoltura, alle culture biologiche che si è affermata e che costituisce una potenzialità anche dal punto di vista economico e sociale importantissima. E poi c'è una storia anche abbastanza, secondo me, opaca rispetto a quelle che sono state le scelte effettuate per arrivare a quel progetto. Il coinvolgimento di società di San Marino, il fatto che ci sia un sovradimensionamento rispetto al fabbisogno reale. Ma questo è un po' legato a tanti progetti di gestione dei rifiuti che diventano occasione di business e non di soluzione del problema reale. Dalle discariche ad una strategia rifiuti zero che si propone pure un osservatorio di monitoraggio verso questo percorso. Secondo me nel nostro ente locale, nel nostro comune di Pesaro, sono molto importanti da attenzionare per esempio le attività turistiche, le attività ricettive, le attività balneari e poi come dicevo, ecco, avendo anche una zona industriale fortunatamente molto attiva, anche quel settore e quindi fare proprio dei tavoli di lavoro e di coinvolgimento di tutti questi portatori di interessi essenziali.